Che se fai il mondo che il magesco è col buccio che per i pipì con cielos azules andando voy a un lugar si soñaba con ir che se fai il mondo che il magesco è che mi gusta fai il mondo che il magesco è ok uno, due, tre che se fai il mondo che per i pipì che se fai il mondo che per i pipì con la luna sobre mi dueño niente nada más se podría pedir non la lluvia caer, me va a cambiar il sole sempre vuole a salmi senti le avvito sobre tu pied andiamo allà per vedere ok, quando il café lo traen da la plantazione in sacos viene in un carro e andiamo allà che è la parte onde lo recibi ok, tu vas a vedere come collezionano ma quando collezionano lo mettano in sacos lo mettano in piedi e lo mettano in truca e poi lo mettano in truca il beneficio del café questo è il beneficio sì, qui ok, questo è quello che si chiamano la cajuela è la mesura ok, dice che circa 5,000 grazie o beine saranno i fissi quindi, per esempio quando si chiede a un giorno 8 di questi questo mesura è come per la proprietà ok, questo chiede 8 di questi ma per il produttore non è sufficiente quindi hanno questo altro mesura questo è chiamato 20 di questi sono una cajuela quindi la capacità è di ricevere dia per dia? no, nel anno durante il anno durante la produzione abbiamo la capacità di produrare e produrare 1,500 panegas per il impatto ambientale perché non vogliamo diventare perché possiamo causare ambientale o ambientale da Violei, so you know the name, it's Cerro Violei, Cerro Violei is the top of the hill that you can see over there, that is Cerro Violei, Cerro means hill, Violei is the place where we are, so Violei Hill Coffee, that's the name. poop is the top, go to the beach. Oh, no, no, no. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 4, 5 3, 4 6 8 9 9 no 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 so the male the only function of the male is to make with the queen that's the only so in Spanish we have a word for a lazy man which is which is the same word for a male bee so someone lazy it's a sangano because you're a sangano it's a male bee who doesn't do anything but make with the queen vago 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 yo soy cuatro esquinas casa y esto mami cuatro esquinas cuatro esquinas bueno pantón lleno paleta paleta banana chupeta yendo 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 Parti di quello che posso produrare è molto ricco per fare questo per mezzo. Un'altra parte del progetto è produrare vienes per usare plastiche. Perché non lo fanno più costo per mezzo. Per molti motivi, uno è che probabilmente non viviano più costo di plastiche. Ora ora c'è un problema che le persone facendo plastiche di plastiche perché è meno pesante per portare i plastiche di plastiche. un'altra parte del progetto! Rappariamo a mettere lì? Con quello che si non si tratta? E poi mettere lì, lasciare pulire. E poi ci sono sti nello freddino. Ci sono più di un giorno e poi la faccia un'altra parte? Sì, che ci sono andati per 1 giorni, dopo 1 giorni, ci sono andati per 2 giorni. Ciao! So now, it'll all be clear So we got it Bye 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 So now Go 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.